Dynastar M399 è lo sci per fare evoluzioni, kick tra gli alberi e sciate nella powder con un raggio di 17 metri e 99 mm al centro, nella lunghezza di 179 cm. La costruzione prevede un nucleo hybrid core in legno di pioppo e poliuretano circondato completamente da una struttura in fibra di vetro con fianchetti verticali a tutta lunghezza. Gli sci hanno un profilo Progressive Rocker Dynastar M399 179 di lunghezza, sci molto facile e molto morbido, un bel giocattolino per chi vuole per chi vuole spostarsi dalla pista al free touring, il peso non è dei più contenuti di questa gamma di sci, però consente una pellatina sicuramente sotto i 1000 metri di dislivello, sci interessante appunto per un pubblico principiante, in pista trova grosse difficoltà. Uno sci molto divertente, giocoso, intuitivo fin da subito, è uno sci estremamente versatile, si può utilizzare in qualsiasi condizione della neve, il powder rocker in spatola è molto bello e offre un ottimo galleggiamento in neve polverose, uno sci consigliato anche con un attacchino da alpinismo per fare dello ski touring, che dire, è uno sci indirizzato a un pubblico giovane, a dei freestyler, può anche essere utilizzato da un pubblico femminile perché è molto facile da gestire, sci bellissimo, rocker e punta che spaccano qualsiasi tipo di neve dalla crosta alla polvere più profonda, bello, l'unica pecca è che bisogna stare sopra lo sci, non addormentarsi e non farsi portare dallo sci, se no non perdona, per il resto sci fantastico.